smile and learn con le date dei compleanni dei tuoi familiari e amici cominciamo il primo mese dell'anno è gennaio gennaio il tuo compleanno è a gennaio auguri ancora anna gennaio il secondo mese dell'anno è febbraio febbraio il compleanno di tua mamma è a febbraio bisognerà pensare a un bel regalo febbraio il mese successivo è marzo marzo nonno luigi compie gli anni a marzo il nonno ha tantissimi anni marzo il prossimo mese è aprile aprile il compleanno di tuo fratello davide è in aprile quel giorno mangeremo la sua torta preferita aprile maggio è il quinto mese dell'anno maggio a maggio c'è il compleanno del tuo maestro quel giorno più che mai bisogna comportarsi bene in classe maggio poi c'è giugno giugno il compleanno di tuo papà è a giugno festeggeremo alla grande giugno il mese successivo è luglio luglio a luglio si festeggia il compleanno della cugina maria ci invita sempre a mangiare una pizza per festeggiare luglio continuiamo con agosto agosto il compleanno dei tuoi amici gemelli dovrai comprare due regali agosto il mese che viene dopo è settembre settembre a settembre si festeggia il compleanno di nonna rachele sono sicura che ci preparerà una torta enorme settembre ottobre è il prossimo mese ottobre il primo compleanno del tuo fratellino è in ottobre è ancora un bebè ottobre ottobre il penultimo mese dell'anno è novembre novembre il compleanno dello zio paolo è a novembre festeggerà tutta la famiglia novembre e l'ultimo mese dell'anno è dicembre dicembre il compleanno del cane tom è a dicembre se gli porti un osso delizioso vedrai come sarà felice dicembre questi erano i dodici mesi dell'anno sono sicura che alcuni li conoscevi già li ripassiamo ripeteli insieme a me gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno giugno luglio agosto settembre ottobre novembre e dicembre grazie bravissima Anna grazie grazie grazie